Sì, sapevamo che era una partita estremamente difficile, è chiaro, questo bastava guardare il percorso che sta facendo il Zuttiroll. Noi ci abbiamo provato con le nostre armi, ma è chiaro che quando affronti questi tipi di squadre alla minima sbavatura tu venga castigato e loro da grande squadra lo hanno fatto. Quindi c'è da imparare tanto, loro hanno dimostrato sul campo di meritare tutti gli elogi che stanno avendo perché è chiaro che stanno facendo qualcosa di eccezionale, anche oggi hanno denotato grande solidità, grande fisicità, qualità. Quindi insomma si parla di una grande squadra che gli faccio complimenti per il percorso che stanno facendo. Sì, questo sì. È normale che in questo momento storico siamo estremamente risicati con tanti che stanno facendo gli straordinari perché anche oggi Bernardotto ha un fastidio al ginocchio e sta tirando la carretta ormai dall'inizio della stagione e complici vari infortuni è difficile anche sostituirlo come centro avanti perché gli unici che lo possono sostituire con ognuno di loro le proprie caratteristiche sono Birligea e Chiere Matenga che in questo momento purtroppo non li abbiamo. E devo dire anche che per l'avversario che abbiamo affrontato ci sono state anche tante cose positive perché per lunghi tratti la partita è stata anche in equilibrio. Però nel momento in cui te sbagli o fai una sbavatura loro da grande squadra ci hanno fatto gol, ci hanno fatto male e quindi da queste squadre che dobbiamo imparare per migliorare, per crescere e soprattutto ti fa capire dove manchi. Ministro, adesso concentrazione massima per il campionato, che tipo di spunti ricavi anche da questa partita di oggi in vista della trasferta di Takrara? Io ho visto per lunghi tratti anche avere il predominio della palla e il predominio territoriale anche del gioco anche per i primi 25 minuti, prima del 3-0 nel secondo tempo stavamo spingendo anche con grande qualità contro un avversario che non aveva fatto per scelta ma perché ha continuato a pressarci per tutta la partita quindi era il merito dei ragazzi che riuscivano a mettere sulla difensiva il su Tirol. Quindi di spunti ce ne sono tanti. Ho visto tanti ragazzi fare delle buone prestazioni e ho visto degli errori che chiaramente non possiamo commettere come è successo sul primo gol dove siamo in pressione alta e siamo stati timidi, nuovamente timidi, in un corpo a corpo mentre loro ci hanno insegnato che nel momento in cui uscivamo fermavano con grande continuità l'azione senza darci campo. E noi queste piccolezze, queste malizie che poi nell'economia della partita contano tanto noi ancora non riusciamo a farle diventare nostre. Mister, nonostante il 3-0 crede che il Teramo avrebbe anche oggi meritato qualcosa di più? No, sul campo abbiamo meritato di perdere. Magari il 3-0 secondo me è eccessivo perché occasionissime anche il su Tirol non ne ha avute. I gol subiti sono una palla nativa che abbiamo rivisto, era fuori gioco il 2-0 e poi sono due tiri da fuori aria dove sicuramente potevamo fare molto di più. Hanno avuto più occasioni di noi. Con una squadra estremamente solida come il su Tirol è chiaro che in quelle due o tre occasioni in cui potevamo far male non l'abbiamo fatto. Quindi io penso che il su Tirol l'abbia meritato. Il passaggio del turno, il 3-0 è un risultato un po' troppo ampio. Mister, la preoccupa un po' il Teramo sotto l'aspetto difensivo perché questa sconfitta ha un po' evidenziato ancora una volta i limiti del Teramo in difesa? No, non è che mi preoccupano. E' chiaro che ci sono anche tantissime assenze. Quindi sono cose che purtroppo ci possono stare a maggior ragione contro questi tipi di squadre. Quindi noi sappiamo che in questo momento stiamo subendo troppo e dobbiamo assolutamente migliorare. Però qualche giorno fa abbiamo giocato con il Pescara, abbiamo concesso pochissimo. Quindi è chiaro che noi dobbiamo veramente giocare sempre l'uno per l'altro e con grande collaborazione perché a livello individuale, anche dal punto di vista fisico, un po' manchiamo e quando non riusciamo a giocare insieme diventiamo più fragili del dovuto. Però le preoccupazioni no. La preoccupazione è quella di riuscire ad avere a disposizione tutti i ragazzi perché ormai sono assenze pesanti e soprattutto stiamo chiedendo tanto a giocatori che sono spremuti più del dovuto. Quindi la mia preoccupazione è più quella di recuperare qualche giocatore per ritrovare poi anche la solidità che in questo momento, o perlomeno oggi, è mancata. Il tema di errori non posso non chiederti di tozzo? Sì. Tra l'altro sì, insieme a un quadro non sempre di lì, è proprio ragazzo. Sì. Sì, no, Andrea ha commesso un errore. È chiaro, è evidente, quello è un errore tecnico. Lo ha pagato, lo abbiamo pagato. Fa parte del calcio. È chiaro che quando si commettono degli errori o in porta o davanti è successo anche in maniera opposta a Bernardotto. Bernardotto aveva fallito tante occasioni del gol, più accusandolo, però ha cercato sul campo sempre di reagire nella maniera positiva andando sempre alla ricerca della prestazione. Così facendo poi si è tolto le soddisfazioni perché nell'ultime due settimane è andato a segno con continuità. Quindi il saper reagire a un errore è chiaro che è importante sia a livello di giocatore ma anche come uomo perché è la vita che te lo impone. Quindi deve essere brava Andrea a tapparsi le orecchie, il naso e reagire perché solo lui ha il proprio destino nelle proprie mani. Mister, come l'hai visto Pinto? Bene. Molto, molto bene. È stato uno di quelli che mi ha stupito un positivo. non tanto per le qualità del gioco perché lo conoscevo benissimo e sapevo che si parlava di un difensore estremamente solido e forte nel corpo a corpo. Infatti molto spesso ha vinto il duello con Udogu che non si parla di un centravanti che è l'ultimo arrivato. Era la sua prima uscita da titolare e soprattutto era tantissimo da un anno e mezzo che non giocava una partita da titolare e penso che abbia messo in mostra quelle che sono le sue qualità migliori e soprattutto ha confermato che sta tornando sui suoi livelli. Poi la sostituzione è dovuta perché aveva un inizio di campi e chiaramente non potevamo spingerci oltre visto la lunga assenza dei campi che aveva. però secondo me ha fatto veramente un'ottima partita.